Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. È una vicenda a tratti surreale quella che mi accingo a commentare. È accaduto che un macellaio in Veneto alcuni anni addietro sparò a un ladro che si era introdotto nella sua casa. Il ladro venne ferito, ci fu un processo e alla fine il macellaio che subì l'aggressione in casa e sparò al ladro venne condannato al carcere. Paradossalmente si può dire che il ladro è già uscito dal carcere, mentre il macellaio che sparò al ladro è ancora in carcere. E proprio in questi giorni, apprendiamo sui principali quotidiani nazionali, è stata respinta la richiesta di grazia da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sicché il macellaio dovrà rimanere in carcere. È una situazione in effetti a tratti paradossale, se si considera, ripeto, che il ladro che si introdusse in casa sua già è stato rilasciato, mentre il macellaio che sparò al ladro e lo ferì è ancora in carcere e di più gli è stata respinta la richiesta di grazia dal Presidente della Repubblica. Ora bisognerebbe bene approfondire i dettagli, se ad esempio sparò alle spalle del ladro che già fuggiva o se gli sparò frontalmente per paura trovandoselo dinanzi a sé in casa. Ma al di là di questi dettagli, che pure non sono trascurabili, stupisce davvero la situazione, perché il fabula docet sembra essere, se ben vedete, che in fondo in Italia conviene essere ladri, cittadini che si difendono dai ladri. Questo è il tragico fabula docet che sembra affiorare da questa vicenda. Ora, io non voglio assolutamente giustificare il fatto che il macellaio abbia sparato, anche perché non so nei dettagli la vicenda. Se se l'è trovato di fronte e ha sparato per difendersi, si tratta indubbiamente di legittima difesa. Se gli ha sparato alle spalle mentre già fuggiva, non è più legittima difesa, ovviamente. Però stupisce davvero l'esito di questa vicenda drammatica, ma anche, permettetemi di dire, dei contorni surreali.